Una corsa per ripulire la città dai rifiuti abbandonati è l'obiettivo della seconda Eco Run, organizzata dalla Virtus Luca in collaborazione con Sistema Ambiente, a cui hanno preso parte una quarantina di giovani atleti assieme ai familiari e agli amici. I ragazzi, d'età compresa tra i 10 e i 18 anni, si sono dati appuntamento al campo Moreno Martini, da dove, una volta ricevuti guanti e sacchi neri per l'immondizia, sono scattati per ripulire l'ambiente circostante, muovendosi prima sugli spalti delle mura e poi fin sopra i baluardi. La corsa, nel segno dell'attività sportiva, dell'aggregazione e del rispetto per la natura, ha fruttato una raccolta di 10 sacchi di immondizia. I rifiuti, opportunatamente differenziati, sono stati poi consegnati al Sistema Ambiente, che provvederà allo smaltimento.